Circo consenso in aula per il nuovo regolamento del mercato ortofruttico e della problematica dei delegati dei quartieri. La cittadina di Tosera si è pronunciata per il sì alla revisione dei costi del solo pubblico, nonché ha esitato tutti i punti posti all'ordine del giorno della seduta di ieri. Il primo, un ordine del giorno, firmatari i consiglieri Paolo Romano, Paolo Cavallaro e Ferdinando Messina, per il gruppo di Forza Italia impegna l'amministrazione alla revisione delle tariffe del canone di occupazione del solo pubblico e alla implementazione di un sistema di zone fiscali basate sull'importanza commerciale del territorio per applicare tariffe proporzionalmente più alte nelle zone più centrali e frequentate. Il Consiglio ha successivamente votato la mozione a firma dei consiglieri De Simone, Burti, Marino, Gennaro e Messina che impegna l'amministrazione a individuare all'interno del patrimonio comunale locali idoni ad ospitare la sede dell'Aus di Siracusa. L'ultimo ordine del giorno, a firma dei consiglieri Cavallaro e Romano, finalizzato l'acquisizione del patrimonio immobiliare comunale di Via Corfu in quanto funzionale alla mobilità su tutta l'area su cui insiste, torna invece in prima commissione. L'Aula, infatti votato per la proposta del consigliere Bonafede, è finalizzato con un approfondimento della tematica. Il Consiglio torna in Aula oggi, sempre alle 10, all'ordine del giorno, il nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo e la problematica dei delegati dei quartieri. La terza seduta aperta è in programma venerdì 17 alle 17 ed avrà come unico punto le problematiche legate all'agricoltura e alla zootecnia. Invitanti tra gli altri, gli enti regionali di competenza, le organizzazioni di categoria, la deputazione regionale e nazionale, le aziende del settore.